Noi ragazze, paro Ferro, dobbiamo ringraziare a Gianni voi, un applauso, poi ci hanno invitato a mangiare il pesce, la seppia fritta e il spaghetti, poi dopo abbiamo beccato la Coca-Cola e noi ragazze dobbiamo ringraziare a Gianni voi. Bravo! E a me, Andrea Carrossè, anche la maestra e donna. Bravo! Grazie a tutti.